Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan, vedete qui in alto la recensione, la terza maglia del Arsenal per la stagione 22-23, in edizione appunto Player. La terza maglia da calcio, Adidas, Arsenal 2022-23, è principalmente rosa chiaro. È la prima maglia rosa in assoluto nella storia del club di North London. Ufficialmente il colore principale è Clear Pink. Clear Pink è lo stesso colore utilizzato da Adidas per l'Inter Miami nella loro stagione inaugurale. Il colletto presenta un ulteriore bordo verde acqua e la parte anteriore e le maniche vantano un motivo sottile per completare il look. Questo modello è arricchito dai cosiddetti armellini che si vedono spesso, ad esempio, negli stemmi. In questo caso è derivato dal vecchio stemma dell'Arsenal. Questa maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Mi piace molto questo motivo rosa scuro sulla maglia e mi piacciono molto le rifiniture in blu scuro. Una maglia che vi consiglio se vi piace il campionato inglese e vi piace questa squadra. Qui in alto vedete il prezzo. Vi ricordo peraltro di una versione Player, quindi di quella indossata dai calciatori, veramente convenientissimo. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Vi ricordo che trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare queste, questa e altre bellissime maglie. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della maglia e quali altre recensioni vorreste vedere. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Player, che a me è un po' stretta. Io preferisco una L.